Vi continuiamo a parlare di Genga da Genga, siamo con Nicia Pagnani e Mauro Fiorentini, due esperti appassionati di storia e leggende proprio qui, di questo territorio. In particolare vogliamo raccontare la storia di Castello Petroso che poi è diventato Piero Sara. Perché Castello Petroso era il castello dove abitavano due ragazzi innamorati, Piero e Sara. Il problema però è che il conte di un castello vicino si innamora di Sara, prova una notte a catturarla, Sara viene effettivamente catturata ma i castellani accorgendosi di quello che stava succedendo chiudono le porte e i cancelli del castello. Ne nasce chiaramente una duradotta in cui il conte si vede perdente ma non riuscendo a vincere l'idea di lasciare Sara la uccide mentre la tiene stretta a sé. Piero che assiste alla scena, disperato e preso dalla rabbia, si avventa sul conte. Anche lui viene ucciso con un colpo di scure. Quindi Piero muore abbracciando con le ultime forze la sua Sara e il ricordo di quell'amore infelice Castello Petroso da quel giorno si chiama Piero Sara. E dalla storia di questi sfortunati amanti passiamo invece alla storia con l'archeologo, la storia vera con Mauro Fiorentini che qui su questo tavolo ha disposto degli oggetti che ha ricostruito proprio dell'epoca. Sì, sono oggetti che richiamano un po' la storia di Castello Petroso perché si va dall'Alto Medioevo, epoca in cui il castello diventa Longobardo, fino all'età comunale, epoca in cui il castello è costretto a vendersi le sue terre, e i suoi possedimenti, alla Abbazia di San Vittorio alle Chiuse. Quindi vediamo appunto un'evoluzione delle spade che vanno da quelle più antiche a quelle più moderne, a quelle derivate da attrezzi contadini e allo stesso modo degli elmi e delle suppelletili.